Questa è la settimana, parlavamo con il preparatore, un po' più di difficoltà fisica perché è fondamentalmente la seconda settimana di vero lavoro per la maggior parte dei giocatori e la terza settimana per i ragazzi più severini e poco più. Quindi è quello in cui abbiamo un po' messo i carichi maggiori nelle gambe dove forse avremo un pochino meno di brillantezza però pensando poi di arrivare a scaricare la settimana prima del campionato per arrivare non giusti alla partita con peso ma il più vicino possibile alla nostra possibile migliore condizione. Quindi ne siamo consapevoli, oltre al lavoro mattutino che ha fatto di pesistica, di atletica e di fondamentali sul campo come tiro e palleggio, diciamo che al pomeriggio non ci siamo risparmiati né a livello di selezione delle cose, cioè abbiamo fatto sia la difesa che l'attacco e anche a livello di quantità dove abbiamo superato le due ore fino a che proprio si riuscire ad arrivare al limite perché questo leggero ritardo che abbiamo è giusto colmarlo al meglio possibile. Io credo che domani noi ci troveremo a essere un pochino appesantiti però magari con qualche regola difensiva in più rispetto al torneo di Scafati è chiaro che poi le due cose sono collegate perché di solito uno difende bene quando è anche in una buona condizione, magari può sembrare di essere, forse magari qualcosa non funzioni però ci interessa già vedere perlomeno le posizioni, il lavoro sul picchiarroli, il lavoro sul lato debole le due regole date sulle uscite blocchi, ecco poi dopo con che agonismo e con che brillantezza le faremo dovremo essere un po' bravi a distinguerle. A livello offensivo adesso abbiamo un po' ampliato il nostro parco giochi, ecco quindi cerchiamo piano piano di settimana in settimana di mettere delle soluzioni che possano essere, possono rivestire un po' le caratteristiche dei nostri giocatori. In verità, prendiamolo una alla volta, il discorso di Martin è indubbiamente un po' sovrappeso e quindi non ha una condizione ottimale però è anche vero che lui è un giocatore di grande tecnica e quindi sopperisce, non si vede poi tanto se uno non sapesse le sue vere condizioni e poi alla fine quando va in campo non è cambiato molto in queste settimane, cioè mi è sembrato già che fosse con gli altri già da tanto tempo quindi sicuramente è in ritardo però mi ha fatto molto piacere vederli sull'inserimento durante l'arco degli allenamenti in maniera così profonda. Su Naneli stiamo cercando come su tutti gli altri giocatori di fare delle cose certe in attacco e ogni tanto ci buttiamo due o tre opzioni ma più per studiarlo noi che per diventare un punto forte della squadra questo per poi dopo costruirci in un secondo momento dei giochi d'attacco in maniera un po' più consistente. Certo, non so se intendevi anche quello, ha fatto un bel passo in avanti a seconda partita con Brindisi e sta confermando questi passi in avanti anche durante questi quattro allenamenti che abbiamo fatto in questi tre allenamenti che abbiamo fatto in questa settimana quindi piano piano sta prendendo fiducia e sta prendendo anche un minimo di condizione prima era un po' più spaesato, mi sembra adesso molto più tranquillo e più dentro al sistema di gioco. Io la vivo che se potessi allungarla ancora di uno o due settimane sarei molto più felice tanto dopo 16 anni di Serie A un europeo fatto quest'estate non è il prima partita che mi manca abbiamo tanto materiale da mettere ancora dentro, tanti argomenti tecnici, tattici e abbiamo una condizione da trovare più omogenea possibile che ancora adesso non c'è quindi volentieri staremo in palestra di più e cerchiamo di ogni allenamento di capitalizzarlo al meglio con il pomeriggio ma anche con un lavoro un po' più individuale è migliore anche la mattina dove facciamo tanto lavoro di tiro tanto lavoro di piccoli fondamentali all'interno dei nostri giochi d'attacco ecco cioè che sono estrapolati dai giochi d'attacco cioè è chiaro che dopo quando si leggono le interviste sembra una grande preoccupazione perché ho parlato del ritardo io sono sereno perché stiamo lavorando bene perché credo che quello che stiamo facendo lo stiamo assimilando perché comunque c'è un processo di crescita da parte di tutti poi è chiaro che a una domanda specifica rispondo che vorrei volentieri più tempo però va bene così riguardo la partita di domani ho già detto cosa vorrei vedere devo essere così devo anche adesso che ho bene o male mi manca solo un giocatore anche io devo un po' allenarmi ad allenare ecco quindi nel senso che cercare dopo come averli in rotazione per farsi di tenerli tutti vivi nessuno portare alla soglia di stanchezza che possa poi risultare evidente come lo è stato in qualche torneo perché eravamo in un numero veramente ridotto quindi dopo serve anche a me oltre che per la squadra ci serve a tutti noi prendere coscienza di quelli che siamo e di come ruotarli e come avere il meglio da tutti